Molto bene, Prepuzio. Stavi per dirmi qualcosa? Anche se si erano passati mesi da quel giorno. Ho anche una maglia diversa. Dimmi, cos'è che stai tramando? Quello che tu non sai, Victor Laslo 88, è che io e te proveniamo naturalmente dalla stessa energia. Un'energia enorme. E questa energia da dove arriverebbe? Non riesco a capire. Vuoi spiegarti meglio? Beh, questa energia proviene dai film che più ti fanno incazzare perché sono le uniche cose che possono scatenarla. E temo che a breve ti incazzerai molto. E quindi, quando l'energia sarà al suo apice, esploderà e libererà la mia vera forma. Ma non esiste un film che possa farmi incazzare più di quanto non abbia già fatto finora. Aspetta un momento. Che giorno è oggi? Tu lo sapevi. Tu hai atteso questo momento finora. Brutto figliuti. Ma non posso non parlarne. Devo parlarne per forza. Tu sei un mostro. Non pensare di riuscire a battermi stavolta. Beh, ti dimostrerò che riuscirò a non liberare quell'energia. E a tenere il mio corpo. E quando sarà finito tutto questo, troverò il modo di struggerti. Adesso scusa, ma devo dimostrarti che ho ragione. Allora, come avete notato in introduzione a questo video, oggi voglio parlare di un film che è uscito di recente e che già dal titolo mi aveva fatto triggerare. Ma siccome io cerco sempre di guardare qualcosa prima di giudicarlo, ho voluto provare a dare una possibilità a questa pellicola. Mi riferisco a film del 2021 per la regia di Michela Andreozzi ed è Genitori contro Influencer. Un film che è trovato in esclusiva su Sky e su Nao, l'ex Nao TV, che è la piattaforma di streaming in abbonamento di Sky. E francamente io non sapevo bene che cosa mi sarei trovato avanti. Avevo sinceramente paura che fosse un film immondo, una porcheria impossibile da descrivere che voleva sfruttare il fenomeno degli influencer mettendoli nella berlina giusto per incassare qualche soldo facile. Però devo ammettere che l'ho guardato e questo film... No, no, sarebbe troppo facile scagliarmi contro questo film paragonandolo alla merda, al guano e alle feci in generale. No, 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 io credo che questa volta devono essere le immagini a esprimere l'unica cosa che ho pensato guardando questo film. Prego! Sì, algoritmo, ce l'ho proprio con te. Ebbene sì, Genitori contro Influencer è esattamente il film che temevo fosse, ovvero una pellicola diretta da una persona over 50 che è convinta di aver capito i social, ma in realtà li vede esattamente come la maggior parte delle persone over 50, da lontano, senza mai avvicinarvisi per davvero. Quindi mi chiedo perché fare questo film? Ma ovviamente la risposta è sempre la stessa. Here comes the money! Here comes the money! E questo perché non ci sono più grandi idee per quanto riguarda queste commedie che escono in continuazione nel nostro cinema, ovvero quei film che non sono né brutti né terrificanti, sono solo inutili. Sì, perché alla fine Genitori contro Influencer, come film in sé, è un film che non è la cosa più brutta che abbiamo visto, non è neanche diretto così male, alla fine queste commedie non sono mai un pianto a livello tecnico, sono semplicemente dei filmetti, anche se ovviamente Michele Andreozzi, siccome ha voluto fare un film giovane, ha dovuto infarcire la sua pellicola di effetti grafici che imitano le varie grafiche dei social network per far capire che il film è fatto per i giovani. Questo film è per i giovani e quindi vai con le grafiche, vai con i riferimenti al formato verticale delle storie, al tag e insomma a tutte le emoji, perché così? Perché così un ragazzino lo vede il film e fa oh, ma è fatto proprio per me, perché ci sono esattamente quegli elementi che io apprezzo quando navigo sui social, ma non è così che ragionano i ragazzini. Questo film mi ha fatto incazzare come una biscia, non perché come pellicola sia brutta, ma perché cerca in tutti i modi di andare a sfondare una parete che non si può sfondare ragionando come chi ha diretto e prodotto questo film. Perché se vuoi parlare ai giovani non basta cercare di ricorrere al pool di influencer disponibili infilandoli nel film e facendo loro fare presenza tanto per attirare i loro follower. Ma andiamo con ordine, naturalmente ci saranno spoiler, lo avrete già capito, per cui vediamo perché Genitori contro Influencer sia un film semplicemente terribile da un punto di vista proprio concettuale, ok? Vediamo un po'. Allora, innanzitutto, non appena iniziano i titoli di testa, si possono notare due elementi che ti fanno comprendere a quale orrore si sta andando incontro. In primo luogo i tag che indicano i ruoli degli attori. Cioè, ad esempio, c'è Massimiliano Bruno, il martellone di Boris, che fa il preside, viene fuori scritto con un font simpi super ultra, Massimiliano Bruno e sotto hashtag il underscore preside. Salve, sono lo sceneggiatore del film e conosco quello che piace ai giovani. Il secondo problema sono poche semplici parole. Giulia De Lellis. Hashtag ele o Nora. Salve, sono lo sceneggiatore del film. E come potete vedere, sapevo perfettamente che la De Lellis avrebbe portato un sacco di persone a guardare questa pellicola. Sono stato bravo, vero? Ebbene sì, in questo film c'è Giulia De Lellis, che non interpreta se stessa, ma ha una versione fittizia di se stessa, ovvero una influencer con un sacco di follower. E poi ci sarebbe il terzo problema, che in realtà non è il terzo problema, è il problema. È un problema così grande che trascende tutti gli altri, che non ci sarebbe neanche bisogno di dire. È un problema che è visibile fin dalla locandina. È un problema che si può percepire ogni volta che vedendo la pubblicità veniva nominato. Sì, perché questo problema, signori, ha un nome, un cognome, ma devo dirvelo io? Fabio Volo. Fabio Volo, il re dei boomer, che qui interpreta un boomer, e qualcuno quindi potrebbe dire beh ma è perfetto, no? Volevano un tizio che si lamenta delle cose pazzissime che fanno i giovani e che lui non riesce a comprendere e allora hanno preso la persona giusta. No ragazzi, no, perché solitamente quando si fa un film mi risulta che in genere si scelgono degli attori e Fabio Volo è diventato un attore nel corso degli anni perché di cinema ormai ne ha fatto in maniera anche frequente per tanto tempo e questa è la prova che continuare a fare film per anni e anni non fa di te un attore perché Fabio Volo non è un attore può interpretare ruoli nei film quante volte vuole lo può fare ancora per 30 anni ma io personalmente non riuscirò mai a considerarlo un attore non ce la faccio non è capace a recitare non è in grado l'unica volta in cui sono riuscito ad apprezzare Fabio Volo è stato quando ha doppiato Po in Kung Fu Panda e non in tutti i film di Kung Fu Panda ad esempio nel terzo secondo me non è stato molto in grado biascicava non mi sembrava per niente in forma negli altri due invece nel primo e nel secondo qualcosina era riuscito a fare per l'amor del cielo non voglio assolutamente fare a mia volta il tizio che si lamenta di tutto e non trova in nulla un lato positivo ci mancherebbe altro io i lati positivi se ci sono li vedo tranquillamente il problema è sostanzialmente che Fabio Volo a me non piace neanche come conduttore radiofonico o televisivo ad esempio trovo che sia veramente l'archetipo di quello che chiamano il boomer ovvero il tizio ormai più che quarantenne che si lamenta di tutto ciò che non comprende e che non capisce ecco io cerco sempre invece di fare diversamente ad esempio TikTok è qualcosa che io inizialmente faticavo a capire poi mi sono messo lì a studiarmelo un po' non diventerò mai un TikToker anche se intanto faccio qualche TikTok ma solo per utilizzare un po' la piattaforma vedere come funziona ma non è esattamente la mia dimensione però invece di iniziare a dire i TikToker guarda sono dei ragazzini che non hanno un caso da fare no perché altrimenti diventerei esattamente come quelli che quando ho iniziato a fare YouTube dicevano eh sì vai lì a fare lo scemo a guardare i film a parlarne spari quattro cazzate e voilà guadagni pure i soldi ecco no sarebbe sbagliato e questo film mi fa incazzare proprio perché io di base sono un influencer anche se non è che mi piaccia considerarmi tale però di fatto lo sono nel mio ambito ovviamente non sono ai livelli di una Giulia dell'Ellis e mai ci arriverò perché mi occupo di un argomento che non può dare più di tanto un bacino di utenza di espansione clamorosa si può arrivare a un po' di follower ma fino a un certo punto ecco mettiamola così quindi io sono soddisfattissimo di quello che ho però di fatto sono un influencer ecco quindi hanno deciso di contrapporre Fabio Volo e Giulia dell'Ellis e qui in questo film Volo interpreta il padre di questa ragazzina Simone che ovviamente ha 14 15 anni e che per l'appunto vuole fare l'influencer mentre il padre è un rompicoglione incredibile che non capisce niente di quello che la figlia fa e iniziano subito scene del tipo con Fabio Volo che dice alla figlia o una cosa del genere ma smettere di stare lì tutto il giorno a fare i balletti su quel social e sì ti metti sempre a fare le storie lì e adesso vorrei pure mica fare i video salve sono lo sceneggiatore del film e conosco youtube instagram e tiktok ma non vi dirò i nomi per via del copyright esatto uno dei grandi problemi del film che saltano all'occhio fin da subito è proprio il fatto che cercano disperatamente di farti capire a quali social network si riferiscono ma non vengono praticamente mai nominati non so se sia per una questione di utilizzo dei vari brand dei vari nomi ma non li nominano praticamente mai al contrario però questo invece lo fanno hanno voluto chiamare i rinforzi sì perché se si pensa all'annoso problema dei giovani contro i più ottempatiche non capiscono i giovani al giorno d'oggi no cos'è che va a contrapporsi i social dalla parte dei giovani la televisione dalla parte delle persone un po' più grandi che non vogliono capire i social network che non vogliono capire che cosa fanno questi giovani che poi è una generalizzazione allucinante dal momento che ci sono tante persone anche over 50 che sanno usare benissimo i social e sono anche influencer su instagram su youtube quindi è anche una cazzata questa è questo il problema il film prende uno stereotipo e lo fa suo e inizia a caricarci sopra una mitragliata di stronzate che io a un certo punto quasi non ci credevo e ovviamente siccome deve essere il classico film commedia italiano che va a finire esattamente nel modo in cui pensi solo che sfrutta la tematica degli influencer hanno dovuto anche metterci le solite ricette ovvero personaggi bizzarri che vengono però interpretati da attori di tutto rispetto quindi ci sono gli eccentrici inquilini del palazzo in cui abitano Fabio Volo e la figlia e sono interpretati ad esempio da Nino Frassica oppure da Paola Minaccioni che eccezionalmente in questo film non ha recitato di merda e volete sapere perché la Minaccioni non ha recitato di merda? perché la Minaccioni come attrice è brava il problema è che negli ultimi anni ha lavorato costantemente con registi che non sanno valorizzarla e questo ci porta a quello che siccome è il problema più grosso del film Michela Andreozzi che peraltro è anche attrice e in questo film interpreta la madre del ragazzino fighetto Liverani non è una regista così pessima nel senso che se lei avesse fatto un qualunque altro tipo di film probabilmente avrebbe tirato fuori una commediola anche simpatica ma quello che fa incazzare è il fatto che questa commediola a tratti non ha senso proprio perché si cerca di dimostrare costantemente un punto che a mio parere non è stato neanche centrato ci hanno solo girato intorno quello che il film vorrebbe farti capire arrivando alla fine è che il divario genitori influencer quindi attempati o boomer se preferite e ragazzini di oggi non dovrebbe esistere cioè si possono comprendere entrambe le parti cioè si finisce con il classico finale Melenso in cui tutto è andato a posto tutto andrà bene e di base non si è centrato effettivamente punto perché in realtà non è che nel finale ci sia un collimare tra le due tra le due parti semplicemente diventa la storia classica padre figlia con la figlia che ha capito il padre ma per motivi diversi ha solo capito quanto il padre gli vuole bene e alla fine il padre non è che sia diventato poi tanto diverso rispetto a come lo hanno trovato verso la fine che era diventato uno stronzo e questo è il fatto e questo è il grosso problema cioè sono arrivato alla fine ho pensato sì ma il punto qual è esattamente cioè alla fine smette di essere un finito un influencer diventa la classica comediola l'italiana che uno può bypassare e non si è perso niente è questa la cosa che non riesco a capire ma allora perché buttarci dentro l'influencer e quant'altro perché fa discutere perché anche io sono qua a parlarne perché alla fine tante persone avranno guardato il film che peraltro si può trovare comodamente in streaming neanche bisogna andare al cinema per via di Giulia Delellis e a questo proposito devo dire una cosa la Delellis secondo me è stata abbastanza brava cioè per quello che doveva fare non si è dimostrata la pessima attrice che avrei creduto sarà che probabilmente interpreta se stessa o una versione un po' parodistica di se stessa ma non è andata così male come avrei potuto pensare e quindi devo dire che forse una delle cose migliori del film è proprio la Delellis e non ho niente da dire perché non mi è sembrata un'attrice così terribile diciamo che per quello che doveva fare è andata anche piuttosto bene beninoto e non lo so aveva anche la sua presenza sapeva bene come muoversi perché alla fine doveva fare quello che ecco sì arriva anche la sirena così uno può pensare oh lo stanno venendo a prendere che è impazzito ma no no lo so che molti si sarebbero aspettati che io avrei iniziato a gettare fango sull'interpretazione della Delellis ma non posso farlo per il semplice fatto che secondo me la Delellis non se l'è cavata male non dico che sia una brava attrice ma per quello che era chiamata a fare in questo film e compare anche abbastanza secondo me non era poi così male ma cosa succede quindi all'inizio del film qui vediamo la ragazzina Simone che è un po' incazzata col padre che insegna peraltro nello stesso liceo in cui va lei ma non nella stessa classe e vediamo e vediamo lui che è arrabbiato perché la ragazzina non vuole più stare da sola con lui è cresciuta è molto presa dallo smartphone che lui ovviamente non capisce lui non ce l'ha lui non usa lo smartphone lui è un alieno cioè io capisco voler cercare di rendere il personaggio lo stereotipo del boomer ma così è troppo cioè questo non vuole capire la figlia non vuole capire cosa sono i tiktok come si usa instagram non ha neanche lo smartphone cioè io capisco volersi un po' distaccare da ciò che è mainstream da ciò che non capisci però ragazzi dovete anche capire che quando la società prende una certa direzione ha una certa se tu vuoi fare il diverso il controcorrente viene tagliato completamente fuori perché non avere il telefono ora e c'è ancora qualcuno che non ce l'ha ti taglia veramente fuori da tante dinamiche e a un certo punto inizia a diventare quasi un recluso uno può dire sì io preferisco diventare un recluso perché non voglio utilizzare questi strumenti del demonio però dal di fuori sembri solo uno che sta sbraitando sembra tipo la foto di nonno simpson anziano sbraita contro una nuvola tratta dall'articolo di giornale che abbiamo fatto c'è capito a una certa va bene e voler andare un po' controcorrente però il personaggio di Fabio Voro in questo film è proprio parodistico al massimo non veramente ma nessuno potrebbe mai prendere le cose come le prende lui tutto incazzato insomma che si mette quasi a piangere mia figlia non mi caga si incazza anche con i ragazzi a scuola ad esempio c'è questo Oliverani che è un personaggio che acquisterà importanza nel corso del film che sta guardando i tiktok dopo che lui gli ha chiesto di non farlo e allora Fabio Voro prende lo smartphone e lo sfonda a terra no e boh io quando ho visto questa scena ho pensato sono un professore bravissimo e vi dimostrerò che questi strumenti del demonio non possono essere utilizzati bam hai visto ho bruciato lo strumento del diavolo l'ho distrutto la tua anima è salva cioè davvero è troppo è veramente troppo e a un certo punto lui guarda anche all'interno il telefono della figlia e vede che lei sta facendo tutti questi balletti che lui ovviamente non può comprendere e la figlia quando lui chiede che cosa è quella roba dice io mi sto allenando per diventare influenza perché voglio diventare come Ele-O-Nora che è il nickname di Eleonora per l'appunto che è il personaggio della Delellis che vediamo mettere che la vediamo lì con il manager che si incazza perché è stata trattata male da quest'attore con cui era uscito quindi diciamo che se il film voleva essere democratico facendoti vedere da una parte il boomer esagerato e dall'altra parte l'influencer è esagerato perché io dubito che sia quello che fanno gli influencer ad altissimi livelli cioè stare lì a non fare un cazzo aspettando che il manager ti dica tutte le notizie del giorno cioè non so come funziona ma insomma io mi chiedo perché ma non potevi rappresentare in maniera leggermente più realistica il tutto perché poi il padre inizia a dire eh tu io non farai mai TikTok tu non fai non dice TikTok tu non farai mai l'influencer tu aspetterai ancora un po' fino ai 18 anni lei lo filma mette la storia su Instagram facendo appello a Eleonora dicendo mio padre è un padre trombone non vuole farmi fare l'influencer insomma Eleonora ti prego aiutami tu e lei che c'è il cazzo girato sul consiglio del manager si accanisce su di lui chiamandolo padre trombone vediamo con queste grafiche orripilanti con i pop up con i rettangolini con scritta la condivisione del video una roba terribile sulla cibela veduta della città e questi pop up che salgono vabbè e praticamente noi vediamo questa cosa e c'è per l'appunto il professore che nel giro di poche ore diventa ipervirale diventa ipervirale e lui allora dice oddio cosa faccio no ma capisce che questo è l'unico modo per legare con la figlia perché la figlia a un certo punto dice ma senti ma se io ti aprissi un profilo che si chiama anti-influencer avresti un sacco di follower e la cosa che mi ha fatto incazzare è che si capisce fin da subito dove vuole andare a parlare tutto no lui va sui social diventa famoso e da anti-influencer diventa poi un influencer a tutti gli effetti wow che sorpresa mamma mia e la cosa bella è che a un certo punto lui incontra questa Eleonora perché lui aveva letto in una storia che lei è una fancazzista e quant'altro e lei arriva lì dice oh ma lo sai quanto mi pagano perché si trovano in un evento che stanno sponsorizzando entrambi e dice sai quanto mi pagano mi pagano un sacco di soldi io mi faccio un culo così 12 ore al giorno e su questo cara Eleonora posso capire perché è stato l'unico momento in cui mi sono sentito non dico rappresentato ma vicino a quello che dice il personaggio perché quello che facciamo noi influencer non è qualcosa di così semplice come si può pensare io ragazzi lavoro una mole di ore ogni giorno che è incredibile ma non lo dico per vantarmene per farvi capire una cosa che vi dico sempre il problema è questo il problema è che allora io faccio anche un altro lavoro lavoro come talent manager in un network ed è un lavoro che occupa sulle 8 ore al giorno poi però devo anche fare il lavoro di influencer che comprende nel mio caso fare un video almeno al giorno e ci vuole un po' tra girare montare e io non è più come una volta che i video non li montavo più a parte le recensioni che quelle più classiche che io faccio e che quelle non monto più di tanto perché voglio che sia una cosa discorsiva gli altri video le altre tipologie di video che ho caricato sul canale sono montatissime ma sono montatissime tipo che ormai arriva a oltre 250-300 tagli se notate sono molto ritmate adesso quindi ci vuole il tempo un video a livello di riprese e montaggio eccetera ci mette almeno un 3 ore se non è un video particolarmente complicato per cui farne una 1 al giorno è tanto poi vado su Twitch e durante la giornata devo mettermi a fare i post con la grafica che le mie grafiche sono bruttissime quindi non ci metto moltissime a fare ma comunque un po' di tempo ce lo perdo per appunto per Instagram e sembra niente ma alla fine arrivo a lavorare anche un 14-15 ore al giorno quindi venire a dire che l'influenza è una puttanata incredibile si poteva pensare anni fa quando ancora non si riusciva a capire bene il fenomeno ma adesso a mio modesto parere si può anche smettere con questa stronzata infatti il personaggio della Lellis dice chiaramente al personaggio di Fabio Volo ma che cazzo dici oh e lì mi trovavo d'accordo non fosse che per tutto il film non ti fanno vedere la dell'Ellis che lavora sodo ti fanno vedere la dell'Ellis che si fa due o tre selfie o che prende a pugni un sacco per sfogarsi ma non ti fanno vedere il modo in cui lavora con gli sponsor per davvero che ti facciano capire dove stanno queste 12 ore al giorno di lavoro è questo che mi fa incazzare perché quello che lei dice sono solo parole non è che ti mostra effettivamente come come riesce a lavorare a fare per 12 ore al giorno il suo mestiere questa è la cosa che mi ha mandato i matti fa solo vedere lei che fa due foto un evento lei che fa due foto alla spa basta e allora di che cazzo stiamo parlando se 12 ore lavoro al giorno che vi assicuro ci sono gli influencer lavorano così tanto chi più chi meno però comunque è un lavoro a tutti gli effetti perché me le dici soltanto e non me le fai anche vedere perché non mi fai vedere lei che effettivamente lavora porca puttana che magari puoi far vedere dei momenti in cui magari è lì che discute con gli sponsor è lì che fa qualcosa no è sempre seduta che guarda il telefono ma non è così che funziona e questa cosa mi ha mandato in bestia comunque sia lui inizia a diventare strafamoso e però non si vuole far pagare perché dice no ma io sono un anti influencer io non voglio farmi pagare a me piace fare le cose gratis e quant'altro fino a che ovviamente non subentra quella cosa che si chiama mutuo e si scopre che il padrone di casa deve vendere la casa in cui loro stanno lui non vuole portare via da quella casa la figlia che ha già avuto abbastanza traumi perché è cresciuta senza una mamma la quale era morta quando era molto piccola e lui siccome la vede già che sta crescendo in maniera un pochino tormentata non vuole assolutamente sradicarla da quel luogo dove è cresciuta e allora si mette a farsi pagare anche lui e inizia a diventare piano piano non solo più schillato nell'utilizzare per l'appunto il telefono lo smartphone e quant'altro ma anche un po' più stronzo ecco diventa anche così fino a che non fa una collaborazione con Giulio Delelli su più livelli perché come vi avevo detto chiamano i rinforzi a un certo punto i produttori di questo film quando lui inizia a diventare virale questa viralità viene dimostrata perché vediamo che in televisione c'è una finta puntata di Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso che parla del caso del personaggio di Fabio Volo e io vi giuro quando ho visto Barbara D'Urso ho pensato ma perché ma perché io devo beccarmi la D'Urso anche in un film stavo guardando il film ero incazzato dentro ma tranquillo ma perché devi mettermi Barbara D'Urso e la sua maledetta aura luminosa tipo il potere dell'arca dell'alleanza di Indiana Jones ma perché per quale motivo perché no ci mancherebbe solo che mi mettessero un'intervista doppia delle Iene cosa che effettivamente hanno fatto a un certo punto c'è un'intervista doppia tra il personaggio della Delellis e il personaggio di Fabio Volo una roba imbarazzante come poche cose al mondo nel pieno stile dell'intervista doppia delle Iene con tanto di Nicola Savino e Hilary Blasi che presentano il servizio e loro che fanno questo servizio fintissimo di cui è finta persino la grafica ci sono riusciti a patinare e a rendere finte fittizie con una grafica di merda persino il layout dell'intervista doppia delle Iene con le Iene in mezzo come cazzo hanno fatto io ve lo giuro non lo so io non lo so comunque sia vanno a un certo punto a fare questa sponsorizzazione di un resort dove va anche il personaggio della Delellis che inizia a legare un po' con la figlia della Delellis scusate la figlia di cosa ho detto la figlia di Fabio Volo e l'amica della figlia le quali poi vanno in camera e la figlia del personaggio di Fabio Volo si fa una foto e questa foto un po' insomma un po' scoperta si vedono non te li fanno vedere ma si capisce che nella foto si vedono i segni e le dice mi raccomando non diffondiamola io ho pensato questa foto prima alla fine del film per qualche motivo gira in giro così si vanno anche a parlare un po' del problema del revenge porn e quant'altro e quindi siamo a posto ci abbiamo messo tutto nel calderone senza riuscire minimamente ad approfondire neanche uno di questi argomenti e ci siamo portati a casa il consenso del pubblico e poi vediamo che Fabio Volo è lì che parla con la Delellis nella spa e limonano così a caso perché capiscono di non essere poi così tanto diversi facciamoli scopare così senza senso io mentre guardavo pensavo ma perché ragazzi davvero sembrava una roba all'occhi del cuore non ha minimamente senso e l'amica della figlia e la figlia hanno un'idea propongono alla Delellis a volo di fingere di stare insieme perché così avrebbero più follower e loro siccome già limonano e fanno cose dicono ma sì così almeno possiamo stare insieme senza che la figlia si insospettisca non ho capito perché lo facciano dato che poi due minuti dopo esattamente sia la Delellis che la Favolo comunicano a Simone che loro stanno realmente insieme e Simone è un po' incazzata ma non è che si capisca veramente perché ma fa niente intanto il padre è diventato uno stronzo perché non ha più tempo per lei non cucina più è diventato esattamente quello che cercava di combattere wow non me lo sarei mai aspettato e c'è anche il momento spettacolare con questo Liverani questo fighetto della classe che aveva avuto dei trascorsi è stato un po' stronzo col prof che a un certo punto fa vedere che è sempre a casa della figlia e lì pensi oh ma c'è anche il dramma adolescenziale perché in realtà l'amica della figlia di Fabio Volo è un po' innamorata cotta di Liverani il quale sembra invece cotto della figlia di Fabio Volo per poi farci scoprire che lui non è cotto della figlia di Fabio Volo è cotto del personaggio proprio di Fabio Volo dicendo ma io sono fluido e a lei mettiamoci anche la tematica LGBTQA trattata nella peggiore maniera possibile sono fluido come a dire sti ragazzini di oggi usano gli smartphone guadagnano un sacco di soldi e guardali lì guarda cosa fanno sono fluidi che vuol dire che vanno anche dietro agli uomini più grandi io vi giuro ci ho letto questo mentre guardo il film ma cosa stanno cercando di comunicarci come a dire che questi ragazzini sono pazzi perché un ragazzo non può essere pansessuale o bisessuale cioè abbiamo i termini usiamoli cosa vuol dire so fluido se ho capito che si riferisce al gender fluid va bene ma non è che ti spiegano il termine tutto no no lo prendono anzi a me sembra che ci sia una presa per il culo della cosa ma io so fluido e è una cosa ridicolizzata al massimo io vi giuro che ero lì che dicevo boh ma perché ma che senso ha questa scena con tanto di figlia di Fabio Volo che a un certo punto va in discoteca cerca di limonarsi i liverani che si è breccato per via del rifiuto tra l'altro quando viene rifiutato i liverani vediamo comparire provvisamente un emoji del cuoricino che si spezza ma senza un motivo cioè questi inserti grafici sono usati come erano usati a caso in alba chiara non c'è un vero motivo tranne in qualche rara occasione per cui dovrebbero comparire le emoji a sottolineare quello che provano i personaggi in quel momento ma veramente cioè cosa cosa dovrei fare io adesso cioè spiegatemi cioè come se durante tutto tutta questa recensione fosse uscita fuori questa la vedete eccola qua cioè non ha veramente senso ok non lo so io sono rimasto abbastanza impietrito di fronte a tutta questa roba ma non è finita qui lei limona con i liverani il quale la respinge e l'amica che era cotta i liverani incazzata per questo tradimento perché l'aveva vista a lontano manda a chiunque cioè manda i liverani poi gli amici di liverani prendono il telefono e la mandano a chiunque la foto di lei con i segni esposti lei è spaventatissima il padre si sente chiamare da lei al telefono lei non è che spiega della foto ma dice sono in un casino vieni a prendere e fa no no ti mando l'autista si parla sempre di questa NCC che è l'autista ma l'autista ti mando l'autista vabbè perché lui in quel momento sta litigando con i follower che lo stanno effettivamente abbandonando perché hanno voluto rappresentare la shitstorm e la shitstorm l'hanno rappresentata con i vari hater che sono come se fossero sul balcone di un condominio che iniziano a insultarlo uno per uno e sono la rappresentazione dei vari commenti che gli arrivano che sarebbe anche carina come cosa se non fosse che ha messo in scena malissimo quasi non si capisce cosa stai guardando poi però quando lui scopre che la figlia è scomparsa fa un appello ai suoi follower li riguadagna perché bisognava mettere il momento il momento tenerezza ad minchiam e alla fine lui va a prendere la figlia la trova la porta sull'autobus come faceva quando era piccola che non riusciva a dormire la portava sull'autobus cioè voi immaginatevi papà non riesco a dormire dai andiamo sull'autobus insieme agli spacciatori che sono le 4 del mattino cioè è anche io sono stato a Milano o a Roma sugli autobus di notte non sono i posti migliori su cui andare se posso essere sincero qualche persona che non sta facendo niente di male e che lì per i cazzi propri c'è ma vi assicuro che si trovano dei soggetti che non sono esattamente rassicurantissimi sui mezzi pubblici di notte quindi insomma questa cosa mi ha fatto ridere lui che porta la bambina di notte sugli autobus a Milano e ok chiamo a Roma dove cacchio sono vabbè comunque mi sa che sono a Roma non a Milano però vabbè non è questo il punto il punto è che alla fine lui aveva anche riticato quella dell'Hellis perché gli aveva detto dai insomma dammi una mano mi stanno ho tutti questi atti che mi fanno la shitstorm perché ho la giacca di pelle o perché insomma per varie cose all'improvviso ha gli hater che fanno la shitstorm e dice ma fai un appello con i tuoi follower e lei dice ah allora sei come tutti gli altri non sono i miei follower vaffanculo poi però si pente e si ritrova con lui e fanno tutti la famiglia alla felice con il manager che diventa il social media manager della famiglia e vediamo la figlia che si amasse a fare video su youtube per rappresentare la generazione z con l'iverani che sta da quello che si vede sia con lei che con l'amica quindi dal gender fluid a tutto parlano a ridicolizzare passano a ridicolizzare non so più parlare il poliamore così quindi buttiamoci dentro di più mi raccomando perché no buttiamoci dentro tutto ma si si può parlare di tutto con ironia simpaticissima no cioè questo è fatto no 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 questo film vuole agganciarsi a qualcosa che non ti sa spiegare sfrutta degli stereotipi per metterci dentro Adelellis e far guardare il film a tutti per far guardare Adelellis per far capire ai ragazzini che questo film è fatto per loro quando in realtà non è assolutamente fatto per loro casual cioè è un film che può prendere di più gente che non sa neanche cos'è un influencer ovvero i genitori si chiama genitori contro influencer ma è un film fatto più per i genitori che per gli influencer è questa la verità è più più che per chi segue influencer è fatto per i genitori di chi segue gli influencer è brutto da dire ma questo film è una boomerata clamorosa travestita dal prodotto giovane è una caccata come poche se ne potessero trovare in giro io veramente non ce la faccio non ce la faccio cioè io vi giuro non riesco a non pensare solo delle sonore bestemmie quando mi riferisco a questo film non è brutto in sé è brutto per ciò che rappresenta perché il film in sé senza tutte queste minchiate potrebbe anche funzionare non è un film orribile in toto è orribile il messaggio che cercano di mandare voi direte ma te la prendi troppo è un film innocuo no non è innocuo non è innocuo perché siamo arrivati al punto in cui tutti denigrano i social gli influencer eccetera ma tutti ne vogliono una fetta per farne parlare e questa cosa mi fa incazzare mi fa incazzare perché io comunque lavoro nell'ambito e guardando questo film mi sono sentito abbastanza sminuito poi per l'amore del cielo l'Andre Ozzi non ha fatto neanche un brutto lavoro da punto di vista registico da punto di vista proprio di come racconta la storia in sé non sarebbe un brutto lavoro il problema è cosa ci hanno messo dentro se anziché l'influencer ci fosse stato un qualcos'altro magari il film sarebbe stato anche differente il problema è che volendo metterci l'influencer a un certo punto non ha più un collante se uno scena attaccato con lo sputo non capisci più dove vuole andare a parare ma si mettiamoci dietro il ragazzino innamorato del prof a caso ma si mettiamoci dietro lui che limona l'influencer a caso boh io ero lì che non capivo più che cosa stessero facendo non si capisce cosa ti vuole raccontare vuole raccontarti effettivamente un gap generazionale cosa vuole fare sto cazzo di film non si capisce poi hanno messo alcuni brani giovani all'interno per farti capire che è un film che c'entra anche con i giovani ti hanno messo anche i brani delle canzoni italiane classiche per farti capire che ci sono anche i genitori a guardarlo hanno voluto fare un calderone sperando che il target incasinato che hanno scelto di adulti ragazzini tutti mescolati fosse possibile da comprendere in questa in questo boh in questo calderone non lo so sono incazzato nero ragazzi ma veramente veramente incazzato nero quindi io vi chiedo cosa ne pensate voi di questo film perché per me è veramente qualcosa di atroce io vi abbraccio che si fa tanto ma tanto ma tanto bene e noi ci vediamo al prossimo muoiblog ciao a tutti ah sei tornato qui eh maledetto non mi sono incazzato così tanto come pensavi vedi ho mantenuto un minimo di aplomb giusto ma 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 se si è liberato allora allora vuol dire che ha funzionato ma perché non mi sono arrabbiato così tanto vero poi allora ho